Sono Milan Stamenovic, di origine sono serbo, vivo a Firenze, ho 28 anni e sono stilista. Sono arrivato in Italia con un sogno di studiare arte a Firenze e il sogno si è avverato. Mi sono laureato in Accademia di Belle Arti di Firenze, dopo di che ho fatto un bienio specialistico su haute couture. Io sono molto curioso come persona, quindi mi interessa tutto. Metto tanti elementi, anche tanti elementi del passato, tanti riferimenti, tanti simboli. Gioco con materiali diversi, faccio anche gioielli. La cosa che io voglio trasmettere alle persone che indossano le mie creazioni, sono un equilibrio. Progetterandovi in Italia mi aspetto una bella esperienza, mi aspetto la visibilità e veramente un divertimento. Grazie.